Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al meteo. Dall'Atlantico giulge un impulso instabile sull'Italia, sul nostro territorio invece si mantiene buono il tempo. Il dettaglio di martedì 12 ottobre. Sul Veneto fino a metà giornata avremo nuvi diffuse e locali foschie o nebbie anche fitte in pianura. Maggiori schierite a partire dal pomeriggio quando sarà più soleggiato. Temperature stazionarie e clima fresco, minime tra 6 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo un cielo inizialmente in prevalenza nuvoloso, a seguire qualche parentesi di sole. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui cielo coperto con alternanza di momenti più soleggiati. Nevicate diffuse sui confini alto attesini sopra i 1000 metri. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime infine sui 19 gradi all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi genuini.